Il Picerno affronta l'Avellino dopo quattro vittorie consecutive, è un po' un test di maturità quello contro l'Avellino per la formazione di Longo che vuole dimostrare di poter rimanere agganciato al treno delle grandissime di questo campionato. Formazione, il Picerno dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 con Summa tra i pali, Pagliai, Gilli, Allegretto e Novella in difesa, quindi c'è il rientro di Pagliai a destra, sinistra Novella dovrebbe sostituire Guerra che è assente per infortunio, De Ciancio e Gallo in mezzo al campo, sulla trequarti c'è un ballottaggio a destra tra Di Cristoforo e Vitale, autore della tripletta che è servita al Picerno per battere il Latina, Poi Ceccarelli ed Esposito vanno a completare la trequarti dietro a Jacopo Murano che è il grande trascinatore di questa squadra. Queste sono le probabili formazioni della vigilia e chiaramente il curcio sarà tutto esaurito in ogni ordine di posto.